La solennità dell'Immacolata si colloca all'inizio di un nuovo anno liturgico nel cuore dell'Avvento e proprio questa collocazione ci aiuta a comprendere il significato di questa solennità mariana. La Madonna è colei che per prima è stata raggiunta dalla salvezza donata dal Signore ed è stata raggiunta in un modo del tutto particolare in quanto preservata dal peccato originale. In questo modo Maria Immacolata è il segno della umanità pienamente rinnovata dalla grazia di Dio ed è per quello che ci accompagna in un modo molto bello verso il Natale perché la Madonna già ci fa pregustare con la sua Immacolata concezione la salvezza che rivivremo e celebreremo il giorno del Santo Natale. In questa giornata il Papa per consuetudine non celebra la Messa ma si reca in Piazza di Spagna a rendere omaggio, a compiere un atto di venerazione all'Immacolata e in questo modo introduce la Chiesa intera nel grande cammino dell'Avvento e nella preparazione al Santo Natale insieme alla Madonna.